Il segreto di Eric Anticipazioni Beautiful, puntate americane, il segreto di Eric Beautiful, anticipazioni americane, il piano di Shayla. A Beautiful i colpi di scena si sprecano, ogni giorno tradimenti, ripicche, inganni, vendette fanno impennare lo Cher. Le anticipazioni americane di Beautiful svelano che, ancora una volta, Shayla sarà una delle protagoniste. La donna è tornata a Beautiful per riconquistare il suo ex marito Eric ma il suo piano è fallito. Eric, dopo aver scoperto il tradimento della moglie Quinn con il figlio Ridge, è andato via di casa e ha chiesto il divorzio ma poi ci ha ripensato e ha perdonato la Fuller. Shayla, però, non si è data per vinta. È rimasta a Los Angeles, ora lavora come cameriera a Il Giardino e non ha potuto fare a meno di notare la grande complicità che cè tra Viat e Katie. Shayla ha riferito i suoi sospetti a Eric il quale, a sua volta, ha chiesto conferma a Viat. Il ragazzo gli ha confessato che è perdutamente innamorato della più piccola delle sorelle Logan. Viat non vuole che Eric ne parli con Quinn, non vuole che si intrometta di nuovo nella sua vita sentimentale. Eric è costretto a mantenere il segreto ma questo nominerà il suo rapporto con Quinn visto che i due si erano ripromessi di non avere più segreti?. Anticipazioni Beautiful, episodi americani, li ha messa alli sempre più vicini. Le anticipazioni americane di Beautiful svelano, inoltre, che Shayla architetterà un altro perfido piano per separare Quinn e Eric. Il nuovo arrivato Matteo, infatti, è stato assoldato da Shayla per sedurre Quinn. Il ragazzo, in difficoltà economiche e con problemi familiari, accetta di fare quanto chiesto gli da Shayla. Il suo fisico prestante e le sue doti di massaggiatore dovrebbero fare il resto. Steffi è fuori di sé perché suo marito Liam ha deciso di aiutare Sully dopo che l'incendio fatto a piccare da Bill alla Spectra ha completamente distrutto l'azienda di moda. Liam e Sully partono per San Francisco per trovare nuovi investitori e per parlare con un architetto che si occuperà della ristrutturazione della Spectra Fashions. Liam tradirà Steffi con Sully? Presto Steffi metterà le cose in chiaro con Steffi e marcherà il territorio. Intanto Bill, estromesso dal figlio Liam dalla Spencer Publications, è sempre più vicino a Steffi. La sedurrà per vendicarsi di Liam o è di nuovo attratto dall'affascinante Nora dopo che Brooke l'ha lasciato? Dopo il ritorno di fiamma tra Steffi e Bill cos'altro accadrà nelle prossime puntate di Beautiful?. .